Musica Musica Oggi si apre la settima edizione delle Olimpiadi Talenti Meccatronici, organizzata da Confindustria Veneto-Est insieme a UNOX. Per noi, per la sezione di metano meccanici è un momento molto molto importante perché mette in contatto quella che è la realtà delle scuole, quindi le competenze operative acquisite dagli studenti con la realtà aziendale. Il futuro è di questi ragazzi, è di questi ragazzi che domani quando avranno finito la scuola avranno un mondo del lavoro che li aspetta. Musica 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 Grazie a tutti.